Ciao a tutti, sono Elio, quello di Elio e le Storie Tese. Ciao amici, sono Cesario di Elio e le Storie Tese. Ciao ragazzi, ciao ragazze, sono Faso, il bassista degli Elio e le Storie Tese. Quest'anno ritorneremo per l'ultimissima volta al Festival di Sanremo per salutare tutti con una canzone bellissima e tristissima che si intitola Arriviamo a Torci. Un pezzo per salutarvi tutti insieme e piangere tutti insieme, noi e anche lo Stato Sociale. Non commettete l'errore di denigrare la tristezza. Ma non è tutto negativo. Il 9 di febbraio uscirà un bellissimo album doppio e anche un quadruplo in vinile, gli LP, questi qua, quelli grossi. Sarà il nostro ultimo estremo saluto. Mi raccomando, piangete pacatamente. Per cui non perdetelo, è una grande occasione di fare un incontro a quattro occhi con la tristezza. Quindi ricordate, dal 9 febbraio, nei migliori negozi di dischi, anche nei negozi di dischi così così, insomma, nei pochi negozi di dischi che rimangono Arrivedorci degli Elio e le Storie Tese. Un saluto da Elio, quello di Elio e le Storie Tese, e dal mio amico qui. Arrivedorci! A presto!